Arriva finalmente l'accordo sulla vicenda Leadri, relativo alla realizzazione della tangenziale Est, una questione che va avanti da molto tempo e che vede protagonisti il Comune di Lecce e la ditta Leadri SRL. La Giunta ha approvato l'accordo con la Leadri, ha detto il primo cittadino, un risultato che premia la nostra azione. A seguito della costruzione della tangenziale Est, infatti, il Comune venne citato in giudizio per tre diversi lotti dell'opera. L'amministrazione quindi venne condannata in prima battuta al pagamento complessivo di 23 milioni di euro. L'anno scorso il Comune ha pagato i primi 9 milioni, mentre per il primo lotto una variazione normativa di natura procedimentale non ha consentito di risolvere il pagamento. Nel frattempo la Leadri, ha aggiunto Perrone, pur sottoscrivendo un accordo formale, non ha mai offerto le dovute garanzie in regione. L'impresa quindi ha provveduto a due pignoramenti e a porre l'ipoteca su tutti i beni comunali. Una serie di sentenze ha dato quindi ragione al Comune di Lecce. Oggi, finalmente, la Chiarella si chiude con l'accettazione della Leadri di nulla pretendere in più rispetto ai 14 milioni previsti dai due lodi. L'azienda rinuncerà a 8 milioni di interessi. Una boccata d'ossigeno per le casse comunali. Palazzo Carafa, infatti, può procedere alla vendita degli immobili congelata dopo le ipotechie. Si chiude così una delle questioni più controverse dell'amministrazione di Palazzo Carafa. Prima della vicenda Leadri, allora, cosa è emerso dall'incontro di oggi? È previsto, ovviamente, la sottoscrizione, così come abbiamo ufficializzato, della transazione, che è l'epilogo, diciamo, di un anno di trattative, di battaglie giudiziarie, che hanno visto l'amministrazione sicuramente tenere la barra dritta. Leadri rivendicare diritti contabili di somme che vanterebbero, a loro dire, sui tre lodi che sono stati già ampiamente discussi e metabolizzati, però l'amministrazione ritiene di non dover più nulla oltre questi 23 milioni che già rappresentano una cifra assolutamente sostenuta. Per cui questo epilogo, diciamo, assolutamente positivo non è niente altro che la conferma che la strategia adottata dall'amministrazione è stata una strategia vincente.